Io ho avuto contatti negli ultimi giorni con Alexis Tsipras e il nostro rapporto personale assolutamente non è rimasto danneggiato, anzi, io ho sempre detto che è il diritto di qualsiasi Stato sovrano di prendere decisioni, questo non l'ho mai messo in questione, però è anche vero che gli altri 18 Paesi e Stati possano sviluppare le loro posizioni, ma noi in qualsiasi momento, l'abbiamo anche fatto negli ultimi tempi, parliamo e possiamo avalarci.